Ciao a tutti, mi chiamo Francesca Petrella e frequento la scuola Zingarelli a Bari. L'istituto ha permesso a me e da tutte le altre classi di leggere un libro scritto da Mattiello, intitolato Se vince la mafia. È un romanzo distopico e credo che possa essere molto istruttivo per chiunque lo legga, soprattutto per i ragazzini della metà, perché appunto spiega qualcosa in più sul concetto della mafia. Il racconto è ambientato nel 2112 in Italia. Nei primi capitoli entrano in scena un incarcerato, una guardia del carcere, sua figlia Teresa e sua moglie. Il punto di riferimento di questa famiglia è uscire dal mondo della mafia, perciò usare il famoso punteggio informale. Teresa stava dunque compiendo gli anni, quando improvvisamente cadde a terra e morì. I genitori tentarono di salvarla, portandola in ospedale, ma ormai era troppo tardi. Ci troviamo in una società in cui ognuno si dava giustizia per conto suo. Il codice d'onore è basato sul rispetto e l'onore del capo, mentre il codice penale prevede l'uguaglianza. Negli ultimi capitoli del libro, invece, entrano in scena il giudice che si occupa di un maxiprocesso contro la mafia e due personaggi fondamentali, ovvero Alfredo e Johnny, due incarcerati che si raccontano a vicenda, appunto vicende a cadute a causa dei mafiosi e scoprono il loro rifugio, ovvero un bunker. Mattiello, l'autore del libro, ha lavorato per anni con il libro ed è uno scrittore distopico. Spero che vi piacerà, ve lo consiglio. Ciao a tutti.